Cari amici, come ogni settimana facciamo un bilancio della nostra attività in relazione all'epidemia coronavirus. Vi avevamo annunciato la scorsa settimana che avremmo preparato un piano economico sociale della Regione Campania al di là del tema sanitario. Abbiamo lavorato in questi giorni per mettere a punto un piano di investimenti imponente della Regione nel campo delle politiche sociali e nel campo del sostegno alle attività economiche professionali. Domani mattina presenteremo questo piano. Abbiamo aspettato anche che il Governo decidesse le misure nazionali a sostegno delle imprese. C'è stato qualche ritardo a parte del Governo. Noi presenteremo comunque domani mattina questo nostro piano economico sociale che, vi dico già, avrà risorse finanziarie per almeno 500 milioni di euro. Quindi un piano enorme che prevede interventi sulle politiche sociali, aiuto alle fasce deboli, interventi di aiuto nelle aree dove abbiamo insediamenti di immigrati Castelvolturno, Piana del Sede, interventi a tutela delle donne e poi per i settori economici un programma di sostegno al turismo, alle aziende che hanno subito danni pesanti, perdite pesanti in queste settimane, aziende di tutti i tipi, attività autonome, commerciali, artigianali, sostegno ai professionisti, alle aziende agricole, della pesca, un ampliamento di interventi per quanto riguarda la casa e il sostegno ai fitti, contributi alloggiativi, misure per quanto riguarda il credito agevolato alle imprese, credito a tasso zero. Insomma una manovra imponente rispetto alla quale noi cercheremo di evitare sovrapposizioni con gli interventi che fanno altre istituzioni statali, comunali, ma faremo soprattutto uno sforzo di semplificazione burocratica. La malattia che abbiamo in Italia è questa, noi mettiamo sulla carta interventi anche interessanti, ma nel passaggio dai documenti alla realtà, cioè nel definire il percorso che fa arrivare i soldi in tasca ai cittadini, ci mettiamo in genere un'eternità. Quindi lo sforzo che stiamo cercando di fare come Regione è quello di individuare delle procedure le più rapide e dirette possibili. Siccome ovviamente è un piano di grande complessità, imponente vi ripeto, ne parleremo specificamente domani mattina e daremo l'informazione più ampia possibile agli interessati, cittadini, imprese, cooperative, società. Per quello che riguarda la questione sanitaria, l'epidemia, innanzitutto qualche considerazione di carattere generale. Abbiamo visto che l'epidemia sta rallentando al nord, non rallenta il numero dei morti, ma è positivo che ci sia un incremento non esponenziale di contagiati. Crescono invece i contagi al sud come era prevedibile. Per quello che riguarda la Campania abbiamo registrato un elemento specifico, una presenza fra i contagiati di soggetti più giovani rispetto alla media nazionale. Credo che sia in parte un dato dovuto anche all'ondata di rientri che abbiamo avuto dal nord due settimane fa. Abbiamo avuto in questi giorni qualche problema in relazione a interpretazioni date dal Ministero dell'Interno, soprattutto in relazione alla possibilità di passeggiare con i bambini. Abbiamo contrastato con forza questa ipotesi che poi è rientrata nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. L'abbiamo contrastata perché vorremmo richiamare sempre tutti a valutare le conseguenze delle cose che si dicono. Perché se tu dici si può andare a passeggio con un bambino sotto casa, ti devi porre alcune domande. Primo, chi controlla che il genitore vada a passeggiare sotto casa e non se ne vada in giro per la città? Secondo, chi controlla il fatto che possono esserci in un quartiere 500 genitori che decidono di fare la stessa cosa, determinando quindi un assembramento di massa? Chi controlla che la distanza fra genitore e genitore, bambino e bambino sia di un metro? Voi capite che ci sono delle cose che finiscono per avere delle conseguenze pesanti. Ora non abbiamo bisogno sicuramente di consultare psicologi per capire che la situazione è pesante per tutti quanti, anche per i bambini. Ma come abbiamo detto e ripetiamo, la priorità è la vita delle persone. più siamo rigorosi in un periodo breve di tempo, prima usciamo da questo calvario. Più siamo disinvolti, più questo calvario durerà mesi e mesi. E quindi, se non stringiamo i denti per altri dieci giorni, noi rischiamo di dover chiudere i bambini poi a casa a giugno e luglio, vi lascio immaginare, destate. Grazie a Dio questo pericolo è stato sventato. Ho visto crescere in questi giorni un dibattito francamente lunare sui rapporti fra Stato, Regioni. Io sono fra quelli che hanno apprezzato molto, per esempio, il lavoro del Ministro della Salute e Speranza, che credo abbia fatto un lavoro eccellente, con grande riservo, con grande serietà. Ma vediamo di capirci bene, questo è il momento meno adatto per aprire dibattiti sui rapporti istituzionali. Voglio solo dire, e mi fermo qui, che se non ci fosse stato l'impegno delle regioni, l'Italia oggi sarebbe sprofondata. Credo che un impegno avesse lo Stato dal punto di vista operativo, non degli orientamenti generali. Ed era quello di garantire un flusso permanente, continuo, adeguato, programmato, nel trasferimento di forniture ai territori. Avete sotto gli occhi il quadro della situazione. Tutte le forniture che dovevano arrivare dalla Centrale Unica di Acquisti Nazionale, CONSIP, sono saltate. E ancora oggi noi dobbiamo fare la guerra per avere un carico di mascherine, per avere i dispositivi di protezione individuale, per i medici, per avere i ventilatori polmonari, per avere attrezzature adatte per la subintensiva e quant'altro. Lasciamo perdere queste cose, per l'amor di Dio. Oggi abbiamo bisogno di parlare dei problemi e delle soluzioni migliori da trovare insieme. I dibattiti di altro tipo li faremo dopo, sulla base dei dati di fatto. A volte sento parlare personaggi che o non sanno di che cosa parlano o vivono sulla Luna. Noi contiamo di avere noi in Campania il picco e quindi l'inizio della curva discendente per fine aprile, inizio maggio. Picco discendente significa avviarci verso una riduzione dei contagi fino alla somma zero. Abbiamo registrato in questi giorni dei rilassamenti che sono intollerabili. Ho dovuto chiedere l'invio di altre e altre 300 unità delle forze armate per la Campania a sostegno delle forze di polizia nel controllo del territorio. Abbiamo troppe realtà nell'area metropolitana della regione nelle quali c'è una disinvoltura che fa paura. Ancora oggi. Ora, in queste ore, in queste settimane, e finisco con questa considerazione di carattere generale, noi abbiamo verificato, oltre che la fragilità di tutti quanti noi come individui, la fragilità dell'Italia. E' aperta sul piano mondiale la guerra per accaparrarsi le maschere di protezione. E' una guerra. Ho visto che ieri la Francia ha attaccato gli Stati Uniti perché stanno accaparrandosi queste produzioni. In Italia non abbiamo centrali di produzione autonoma di questi dispositivi di protezione. Ma non penso tanto a questo. Penso all'energia. Provate a immaginare in che condizione si troverebbe l'Italia se la crisi dovesse diventare drammatica e se ogni paese si chiudesse in se stesso. L'Italia, dal punto di vista delle forniture energetiche, dipende dall'estero per il 76%. Se si chiudono i canali di fornitura energetica, l'Italia è in ginocchio. Faccio questa osservazione per dire che noi nel passato per un verso ci siamo consentiti tanti russi, per un altro verso non abbiamo fatto i conti con la realtà. Perché quando arriviamo alla resa dei conti fra paese e paese, ognuno difende il proprio popolo. Provate a immaginare quello che succederebbe se interrompessero le forniture di petrolio o di gas all'Italia. O se la Francia interrompesse le forniture di corrente elettrica che noi utilizziamo sapendo che è energia elettrica prodotta dalle centrali nucleari in Francia. 76% di energia elettrica ci viene dagli altri. Capite a che punto di debolezza siamo arrivati in Italia. E ci siamo permessi il lusso anche di aprire polemiche, dibattiti infiniti sulle trivellazioni in Adriatico. Ora nessuno immagina di tornare ad un'economia di vent'anni fa, cinquant'anni fa. Dobbiamo pensare ad un'economia ambientalmente sostenibile. Ma dobbiamo sapere che c'è un periodo di transizione lungo durante il quale l'Italia rischia di farsi male, ma male sul serio. Questo vuol dire che dovremo concentrare nei prossimi anni risorse imponenti nella ricerca scientifica, l'utilizzazione dell'idrogeno a fini energetici. Ma se rimaniamo in questa condizione, l'Italia rimane un paese permanentemente fragile e non autonomo. Credo che l'esperienza di queste settimane ci imponga di fare i conti con la realtà, di non consentirci tutti i lussi che ci siamo consentiti per il passato. immaginando che gli altri paesi fossero primitivi e noi fossimo dotati di una particolare genialità. Credo che almeno un dato positivo verrà da queste settimane. Cambierà la gerarchia dei valori nella vita di ognuno di noi. Quando sento dichiarazioni di persone che hanno avuto il contagio rimango impressionato, ma sono cose che francamente avevo già immaginato, intuito. Quando ti trovi in un letto, nella terapia intensiva, e quando non riesci a respirare, hai la sensazione di essere a un passo dalla morte, ed è una morte terribile. Hai la sensazione che non riesci a far funzionare i tuoi polmoni. Quando poi esci fuori da questo inferno capisci che anche guardare negli occhi un bambino, avere degli affetti familiari, avere una passeggiata, avere la lettura di un libro, avere una serata in casa tranquilla, è un miracolo. E' cambiata la gerarchia dei valori. Conta di meno la corsa ossessiva ai soldi, al successo, le tensioni di vita continua. Cominciamo ad apprezzare di più le cose semplici, antiche, quelle che hanno magari reso più poveri, ma forse più felici i nostri padri e le nostre madri. E forse impariamo anche ad essere un popolo maturo quando valutiamo la politica. La responsabilità è di tanti di noi e di tanti cittadini anche per queste situazioni. La politica in Italia ha ragionato a breve, a brevissimo. A volte ci siamo fatti trascinare da una promessa, da un'illusione. Adesso capiamo che la politica seria, responsabile, ha bisogno anche di tempi medi, di tempi lunghi, di programmazione, di organizzazione dei grandi servizi di civiltà, non dei tweet, non delle fesserie. E per fare le cose importanti occorrono dei tempi, risorse, investimenti. Credo che siamo chiamati tutti ad imparare che il valore della politica è legato alla capacità che la politica ha di tutelare la vita e la serenità di vita delle persone. Almeno queste sono cose, credo, positive che possiamo acquisire. Veniamo a noi. I dati che registriamo in Campania sono questi. Sono i dati di ieri. 221 nuovi contagi per una cifra complessiva di 2.677 persone contagiate. Abbiamo raddoppiato la quantità di tamponi fatti. Siamo quasi a 20.000 tamponi. Eravamo quattro giorni fa a 9.000 tamponi fatti. Solo ieri abbiamo lavorato 1.833 tamponi. Ora, prima di entrare più nel dettaglio, siccome molte persone stanno a casa e non hanno niente da fare, vediamo crescere di giorno in giorno come dire fenomeni tipici di queste fasi, critiche. Continuiamo ad ascoltare predicatori, gente che si improvvisa, come dire, Nobel per la medicina, chi propone cure miracolose, chi propone terapie sperimentate, chi ci ricorda che le università americane hanno già sperimentato sui topi e su non so che le loro terapie, non si capisce perché se hanno le terapie e non le utilizzano a New York e negli stati americani. Allora, un invito a tutti quanti, per l'amor di Dio, facciamo finta di non ascoltare questa valanga di frottole che ci cadono addosso. Poi abbiamo quelli che sono, come dire, informati di tutto, che hanno sempre le proposte decisive per tutto, io cerco di tenere da parte tutte queste cose che rappresentano solo elementi di distrazione, di perdita di tempo. Sono, come dire, quelli che Russell chiamava i movimenti nati per favorire il sorgere del sole. Inutili. pensiamo a lavorare con serietà. In questi dati della Campania noi rileviamo alcune punte preoccupanti. Abbiamo avuto a Santa Anastasia 53 contagi, Torre del Greco 40, a Fragola e Casoria 24 e 24. ho chiesto al prefetto di Napoli di mettere in piedi un intervento di particolare fermezza in questi comuni perché non possiamo correre il rischio di veder sorgere dei focolai. Dei focolai. Devo dire che nel complesso il dato campano si mantiene assolutamente in linea con le previsioni dell'algoritmo. Devo dirvi anche che se non avessimo avuto le due zone rosse nostre in quarantena, quella di Sala Consilina e Valoidiano e quella di Ariano Erpino, oltre che alcuni risultati particolarmente pesanti nelle residenze per anziani, soprattutto private, noi oggi saremmo anche molto al di sotto di questi dati. Ma nonostante tutto siamo assolutamente in media con le previsioni che ci dava il nostro algoritmo e quindi siamo in una situazione di assoluta tranquillità perché stiamo governando sulla base di numeri che già conoscevamo una settimana fa. Abbiamo avuto in questi giorni un doppio orientamento. Siccome abbiamo registrato la morte di pazienti anziani in qualche residenza per anziani, abbiamo deciso di fare un controllo a tappeto con i tamponi innanzitutto nelle case di cura per anziani e nelle residenze sanitarie assistite. Vi devo dire che in qualche caso abbiamo trovato delle case famiglia cosiddette una fuorigrotta per le quali sinceramente credo che dovremmo denunciare i titolari. Io sono fra quelli che ritengono assolutamente vergognoso, intollerabile il trattamento che viene riservato a persone anziane in alcune case cosiddette famiglie. lo faremo perché almeno questo abbiamo avuto la possibilità di farlo con questo controllo a tappeto sulle case per anziani. Individuare centri vergognosamente dequalificati nei quali gli anziani sono sottoposti a trattamenti inumani. E lo faremo con il massimo di determinazione abbiamo un dato nostro che va riflettuto cioè noi abbiamo ormai 2677 pazienti ma non sono cresciuti i ricoveri nelle terapie intensive ora su questo dato stanno riflettendo i nostri virologi infettivologi è molto probabile che il virus già nel corso di questi 40 giorni abbia in qualche modo però sono dati che vanno verificati sono prime valutazioni che fanno gli esperti abbia perduto in qualche modo una parte della sua aggressività come dire questo è probabilmente uno degli elementi positivi di cui tener conto ma insomma facciamo una verifica più attenta allora in questi giorni abbiamo fatto un'indagine a tappeto sulle residenze sanitarie assistite e credo che dovremmo fare una valutazione sulle carceri probabilmente dovremmo fare un lavoro mirato anche sulle carceri perché rischiamo di avere anche lì dei focolai davvero preoccupanti abbiamo affrontato abbiamo affrontato il problema dei kit abbiamo deciso di fare soprattutto ad Ariano Ilpino dove abbiamo avuto una emergenza una operazione di screening un po' a tappeto quindi daremo una mano anche con invio di personale ad Ariano Ilpino per fare migliaia di kit rapidi poi ritorno sulla cosa dei tamponi in maniera da tale da dare più tranquillità ai nostri concittadini ma i kit li stiamo facendo soprattutto per il personale sanitario medici infermieri amministrativi e quant'altro per una ragione doverosa di tutela del personale medico infermieristico ma anche per bloccare possibili focolai di infezione dentro gli ospedali perché se non abbiamo il controllo del personale il personale medico a sua volta può diventare come dire agente di contagio rispetto all'esterno nel frattempo registriamo alcuni miracoli che abbiamo fatto e diciamo per quanto riguarda le terapie intensive siamo riusciti nel giro di due tre settimane ad avere una palazzina dedicata ad Avellino al Moscati la palazzina Alpi dell'attività di libera professione che è stata in pratica dedicata al covid si sta realizzando a Salerno al Daprocida un ospedale dedicato covid a Bosco tre case si completano i lavori entro il 28 aprile per un ospedale dedicato alla Napoli tre il Loreto Mare è stato completamente riconvertito ad ospedale covid stiamo realizzando un ospedale modulare per 120 posti di terapia intensiva fra Napoli Caserta e Salerno ho sentito che hanno realizzato in altre parti d'Italia in 15 giorni degli ospedali noi li realizzeremo in 10 giorni ma senza fare a muina devo dirvi per esempio che abbiamo dovuto sapere dai giornali americani che abbiamo a Napoli in Campania l'eccellenza mondiale nella cura del coronavirus che è l'ospedale Cotugno di Napoli il primo al mondo per organizzazione e per efficienza operativa noi ce lo dimentichiamo quelli che in Campania si alzano la mattina a astrologare perché non hanno niente di meglio a fare se lo dimenticano ma abbiamo anche queste realtà così come abbiamo probabilmente uno dei pochi farmaci che hanno prodotto mi riferisco al Pascale delle terapie utili a risolvere casi complessi di contagio coronavirus ovviamente ricordo sempre che l'uso di questi farmaci richiede una valutazione attenta del paziente perché può avere effetti collaterali che fanno morire i pazienti per problemi cardiaci abbiamo fatto un accordo con le cliniche private convenzionate con gli istituti religiosi per avere a disposizione altri 3600 posti letto cioè fra posti di degenza e posti di terapia intensiva abbiamo oggi ed è un miracolo non è assolutamente scontato un'assoluta tranquillità per quanto riguarda i nostri pazienti non ci saranno le situazioni di Brescia di Bergamo di Piacenza di Cremona dove quando c'è un caso grave non si sa dove portarlo e mi fermo qui abbiamo un'assoluta tranquillità per quanto riguarda la possibilità di ricovero e anche di uso di terapia intensiva abbiamo avviato un lavoro molto importante sui tamponi facciamo anche qui un punto di chiarezza perché fra i tanti scienziati che si stanno illustrando e coprendo di gloria ci sono anche quelli che ogni mattina ci ricordano i tamponi i tamponi noi abbiamo avuto un ritardo per la ragione che ho detto la settimana scorsa perché in Campania nella regione che usciva da dieci anni di commissariamento avevamo un solo laboratorio per processare i tamponi ed era il laboratorio del Cotugno nel giro di due settimane abbiamo aperto dieci laboratori ma abbiamo ancora un arretrato che si è accumulato alcuni cittadini a volte ci hanno detto guarda che da 4-5 giorni sto aspettando il risultato del tampone questa è una criticità vera lo so perché abbiamo un ritardo quindi decideremo in queste ore se rifarfare il tampone perché questo arretrato rischia di falsare anche la previsione dell'algoritmo cioè noi dovremmo arrivare alla situazione nella quale la previsione la facciamo sul dato che abbiamo oggi non sui tamponi di una settimana fa altrimenti anche la previsione rischia di essere sballata come prenderemo delle decisioni in queste ore chiariamo due cose primo il kit rapido il kit rapido lo facciamo ovviamente per avere prime indicazioni per il personale medico nelle zone in quarantena ma il kit rapido va fatto negli ospedali e va seguito da un tampone cioè il kit rapido dà una prima indicazione ma se vuoi avere la certezza devi comunque fare il tampone il kit rapido in sede ospedaliera e poi devi fare il tampone di verifica perché quello ti dà la certezza facciamo attenzione perché in queste ore stanno girando personaggi che si propongono di fare kit rapido assolutamente inventati inventati queste cose vanno fatte sempre sulla base di protocolli di sicurezza e sempre negli ospedali ci sono responsabilità gravi perché se tu fai un tampone senza avere garanzie e dici a un cittadino che è negativo e poi il cittadino risulta positivo viceversa tu rischi di portarlo in situazioni sanitarie gravissime quindi per cortesia è una materia delicata che va gestita da personale medico qualificato e sapendo sempre chi è che fa il kit perché si deve assumere anche le sue responsabilità in relazione alla evoluzione del paziente un'altra considerazione c'è anche gente che continua a ripetere noi dobbiamo fare il tampone a tutti questa è una doppia idiozia primo perché anche quando hai fatto il tampone tu per avere la certezza assoluta devi rifare il tampone dopo 15 giorni secondo perché è impensabile fare il tampone pensiamo alla Campania a 6 milioni di cittadini chiaro terzo perché i tamponi non ci sono è uno dei ritardi che noi registriamo nelle forniture nazionali avanti ieri ho parlato con i dirigenti della Roche questa casa farmaceutica importante perché arrivavano in scarse quantità i reagenti che servono per fare i tamponi quindi dobbiamo fare anche una pressione sulle case farmaceutiche che devono darti alcune componenti collaterali per verificare i tamponi è una guerra continua ma devo dire che ci stiamo mettendo a regime per cortesia non diffondiamo frottole favole facciamo i tamponi a tutti non lo fa nessuno è impossibile e soprattutto è inutile dobbiamo fare i tamponi come prescrive l'organizzazione mondiale della sanità ai sintomatici lievi o gravi altrimenti non abbiamo né i tamponi né il personale né l'affidabilità scientifica ma vi pare che si potesse fare tutto questo e ci fosse una utilità non lo faremmo ma non in Italia non in campagna nel mondo altre cose sulle quali il mio invito è a far funzionare il cervello e a non dare retta alle mille frottole che troveremo sui social o su qualche giornale intanto vi ripeto abbiamo raddoppiato i tamponi e procederemo così con un lavoro mirato quali sono ad oggi le criticità che registriamo la prima criticità è quella che riguarda le forniture noi abbiamo ad oggi su 400 ventilatori polmonari che abbiamo chiesto alla protezione civile 41 ventilatori polmonari 36 consegnati alla protezione civile e altri 5 credo dalle donazioni per i caschi per l'ossigenazione ne abbiamo chiesti 5000 non ne abbiamo neanche uno per i tamponi vi ho detto stiamo a premere ogni mattina per avere una dotazione adeguata per le mascherine stiamo abbastanza tranquilli ma come sapete ce la siamo visti da soli ordinando un milione di mascherine chirurgiche ad una fabbrica di nola arrivano oggi in campania per una donazione della società di alfredo romeo 192 apparecchiature per la sub intensiva e credo 6 ventilatori polmonari voglio ringraziare di cuore il dottor romeo per questa donazione che ha fatto la regione campania abbiamo lavorato in queste ore per individuare delle aziende campane in grado di produrre ventilatori polmonari abbiamo abbiamo già un prototipo non riusciamo a mettere in produzione questi ventilatori polmonari per carenza di flussometri ci sono pezzi del ventilatore polmonare che devono misurare la quantità di ossigeno che si trasmette che non si trovano sul mercato e quindi stiamo facendo una ricerca noi diretti una ricerca diretta della regione campania per cercare sul mercato nazionale internazionale questi benedetti flussometri e per adesso non abbiamo ancora trovato risposte abbiamo invece concretizzato l'acquisto di un milione di kit rapidi dalla Cina tramite fornitori privati che abbiamo individuato noi a prescindere dai livelli nazionali altra criticità vi ho detto abbiamo troppa gente ancora per strada speriamo che arrivino i 300 militari in più che abbiamo chiesto io faccio un appello ci avviciniamo al periodo Pasquale perché non ci siano assembramenti per attività religiose voglio ricordare che noi abbiamo avuto l'inquinamento di un'intera zona il Vallo di Diano per due cerimonie religiose che sono state fatte 20-25 giorni fa a Sala Consilina ad Atena Lucana quindi vi prego di avere il massimo rispetto per le ordinanze fatte abbiamo ovviamente affrontato questo tema con grande equilibrio con rispetto per tutti ma la priorità è evitare assembramenti che determinino nuovi focolai di malattie voglio salutare e ringraziare il Cardinale Sepe che ha deciso di fare celebrazioni pasquali anche dal Duomo ma senza fedeli Papa Francesco sta dando un esempio di responsabilità in questo senso seguiamo questi esempi siamo chiamati tutti a vivere anche i momenti di fede nel contesto di una emergenza che ci obbliga a tutelare come valore prioritario la salute e la vita delle persone più deboli soprattutto siamo alle prese in queste ore con un'altra possibile emergenza c'è una nave della costa crociere che provenendo dall'isole Mauritius dopo una sosta in India vorrebbe attraccare nel porto di Napoli tenete conto che già abbiamo accettato di far sbarcare nel porto di Salerno credo lunedì una nave che proviene da Tunisi e che riporta in Italia 105 nostri connazionali sono italiani era doveroso per noi riportarli in patria ovviamente faremo i controlli doverosi per tutti i cittadini sia sulla nave sia quando sbarcano dalla nave cercheremo di fare dei kit rapidi per avere un minimo di tranquillità poi non tutti sono cittadini campani ovviamente questi nostri connazionali sbarcheranno e andranno ognuno nelle proprie zone di residenza quindi già ci siamo caricati un problema ed era doveroso farlo per l'amor di Dio sono italiani adesso però ci si propone di fare attraccare nel porto di Napoli una nave che ha 781 membri di equipaggio dei quali solo 113 italiani gli italiani ovviamente possono devono sbarcare ma abbiamo anche cittadini di altri paesi a cominciare a cittadini filippini per i quali c'è una situazione allucinante il governo delle filippine ha chiuso le frontiere anche ai cittadini filippini ora noi stiamo spiegando che siccome l'armatore di questa nave vorrebbe restare nel porto di Napoli per 15 giorni per poter poi ospitare altri viaggiatori o altri membri dell'equipaggio che questa cosa non è possibile non solo perché già dobbiamo fare i conti con il rientro di nostri connazionali da Tunisi ma perché il porto di Napoli è nel cuore della città e non possiamo consentirci di avere movimenti per due settimane che rischiano di portarci altri focolai allora stiamo cercando di evitare problemi e lavoreremo con grande fermezza perché questo sia in ogni caso non è immaginabile trattenere per due settimane avere movimenti e traffico dentro il porto di Napoli di viaggiatori o di membri di equipaggio provenienti da non si sa dove vedremo come evolve questa situazione nei prossimi giorni questo è il quadro complessivo della situazione che abbiamo oggi in Campania un appello ai pazienti di diabete noi abbiamo messo in piedi una iniziativa importante di telemedicina è possibile fare una televisita con il medico curante con il diabetologo avere anche trasmettendo anche immagini con il cellulare del piede diabetico avere anche le terapie che vengono proposte al diabetologo è un bel servizio che sta funzionando in maniera eccellente quindi prego tutti i pazienti di diabete di fare uso anche della telemedicina soprattutto quando dovessero esserci situazioni di particolare di particolare gravità ora noi stiamo cominciando a ragionare come ovvio anche sulla fase due ma la fase due cioè quella anche di ripresa graduale delle attività economiche ci sarà sarà possibile avrà respiro e senso se si conclude la fase uno perché se Dio non voglia noi per una fretta particolare decidessimo di aprire le attività in maniera indiscriminata non solo non daremmo respiro all'economia ma la fosseremmo perché anziché concludere l'emergenza in un mese ce la trascineremmo per lunghi mesi allora io credo che si debba ragionare con grande senso di responsabilità cominciamo a preparare il piano B cioè il piano di fuoriuscita graduale dall'emergenza e di e di riavvio delle attività economiche ma subordinando queste decisioni a valutazioni vincolanti delle autorità scientifiche almeno io la penso così nel frattempo cercheremo ovviamente di dare una mano ai soggetti economici che hanno avuto danni alle fasce deboli della nostra popolazione cercheremo di fare uno sforzo per evitare quanto più possibile elementi di burocratismo e per arrivare rapidamente ai cittadini come sempre vi chiediamo di darci una mano passano i giorni io rimango estremamente fiducioso credo che riusciamo a governare con grande tranquillità questo problema se abbiamo l'aiuto di tutti e se evitiamo comportamenti irresponsabili badate noi possiamo immaginare oggi di rilanciare l'economia con grandi programmi di investimenti parliamoci con grande chiarezza finché non avremo perlomeno contenuto al minimo l'epidemia crescita economica non ce ne sarà e dobbiamo anche dirci con grande realismo che noi non torneremo alla vita di prima non ci torneremo comunque finché non avremo la messa a punto di un vaccino che ci darà tranquillità vera ma finché non avremo il vaccino noi dovremo convivere con il problema senza angoscia per l'amor di Dio ma sapendo che il problema c'è non è stato risolto in maniera definitiva allora guardiamo i prossimi giorni con grande fiducia io so che capiterà a tutti i nostri concittadini di avere anche sbalzi di umore ormai anche i nostri stati d'animo cambiano di ora in ora di giorno in giorno abbiamo momenti di di stanchezza momenti di smarrimento momenti di depressione poi magari momenti anche di ripresa di fiducia di ottimismo di gioia dobbiamo saper governare questa fase tormentata della nostra vita nell'interesse soprattutto dei nostri cari e delle fasce più deboli bambini e gli anziani il mio appello ovviamente è a dare una mano rispettando le regole e il mio messaggio è di fiducia di assoluta fiducia in bocca al lupo a tutti quanti noi ori oi o o o o o Grazie a tutti.